Buongiorno a tutti, sono Matteo Ambrosi, Channel Manager Collaboration UC di Exertis Italia e oggi siamo allo stand di Poli, il booth nella Hall 2, qui a ISEI 2022 e Poli ovviamente è un brand di primo ordine, premium, per le tecnologie di Unify Communication sia per soluzioni personal, quali tutta la famiglia Poli Sync come speakerphone piuttosto che tutta la parte di soluzione headset, scuffie per tutte le tipologie di lavoratore e il valore aggiunto di Poli è di avere una completezza di catalogo tale da andare dalla tipologia soluzione di prodotto Unify Communication per il lavoratore ibrido di qualsiasi tipologia appunto, fino alle soluzioni appunto per sali meeting e spazi collaborativi. Oggi presentiamo nello specifico la nuova Poli R30, la nuova Poli R30 è un prodotto all-in-one video solution appunto per ambienti di piccole e medie dimensioni fino a 5-6 utenti con integrata tecnologia audio artificiale e video artificiale come speaker tracking, noise block, acoustic fence, certificata Teams, in USB presente a catalogo anche nei nuovi kit Teams di Poli. Quindi è un prodotto appunto ideale per le nuove necessità dell'aziente in termini di videoconferenza e collaborazione con tutto quello che è la tecnologia artificiale e professionale di Poli sia sulla parte audio che video. Veniteci a trovare lo stand appunto di Poli e la Hall 2. Grazie!